46 cucciolo ricevete in regalo un cagnetto di pochi giorni che soprattutto di notte cercava sempre la sua mamma nel paniere dove dormiva nascosi una vecchia sveglia che col suo rumore tic tac imitava il cuore della mamma e il cucciolo dormì commento anche il cucciolo dell'uomo vive la vita istintiva che esige la vicinanza della madre